E dai Ma non si era detto che Ste cose Mi dovesse curare Ho sprecato 4 punti potenziamento così Non penso mi ammazzano facile Ma non si era detto che Sì Bassa il volume Chiunque tu sia C'è il ritorno Ho sprecato 4 punti potenziamento E ora non c'è più Ciao Stavamo dicendo ciao Pure al mio warlock Che stava per esplodere di nuovo malamente Ciao Edo Ben arrivato Atterrato sul nostro Switch Sono le battute finali Finisco questo stage Salutiamo i nostri amici Con piacere Con piacere Quindi non lo conoscevi Cioè lo conoscevi Certo che lo conoscevi Warlock Non l'avevi visto In azione Sì Molto molto carino È veramente un bel gioco Tra l'altro È in scontro Dal 60% Su Steam Quindi volendo Un pentilino Si ci può anche fare Ok Finito Dai facciamo pure l'altro stage Così torniamo al Nexus Spero di fare abbastanza in fretta E se sono Minuti in più Ma a me è saltata la La diretta Cioè Mi ha Cioè Non lo so Era un minuto e cinquanta Rotti Era Sono un minuto e quarantasei Infatti mi sono collegato Per sapere cosa fosse successo Quindi Io mi vedo Online Io ti ho Per un minutino Ti ho visto offline Molto bene All'improvviso Tutto molto bello questo Eh già Boh Non ne so parlare Anche perché Dal gestore streaming Ho visto sempre Il palino rosso Come se registrassi Allora Meglio così No non Però Ora che me lo fai notare Vedo Il minutaggio Che è ripartito da zero Eh vedi Quindi A Wimbaw Mi ha sabotato Molto bene Dici No Non penso Sì sì È sempre colpa sua Quando succedono Queste cose Poi Ho capito Eh va bene Andiamo avanti Con quest'altro Scampolo Di Partita Non ho capito Non ho capito Cosa Comunque È fatto Veramente bene Dicevi Non hai capito Ho sprecato Perché al momento È sprecato Sì Punti potenziamento Per un'ascia Che dovrebbe curarmi Ma ho visto Che non cura Saprei 113 95 88 Molto bene Dovrei aver preso Un'altra chiave Che apre Un'altra porta Che è da queste Parti Questa Vai Ho visto arrivare Ma non ho avuto La bravura Di schivare Il colpo La tontezza Di sperare Esatto Due leve Da Attivare E non so Dove Come Perché Quando Ah ce n'è una Ma Me ne manca Sempre una All'appello Dove La troviamo Adesso Mi è apparso Aurenar Adesso In streaming Dopo 5 minuti Di ulteriore Live Se twitch E internet E chiunque altro Ma così Non ci posso fare Molto Questi Sparano Dolorosissimi Colpi Di balestra Amia Colpo di balestra Contentezza Spero Abbiamo Finito Oh no La roca E anche E' bello Perché vario Cioè ti dice In questo livello Contrariamente A tutti gli altri Per andare avanti Si sblocca Sette leve Veramente Interessante Torniamo al workshop Progressi salvati Quindi Vado Come E quello che mi fa impazzire E' che Una produzione così Fatta da un ragazzo Vent'anni fa Sarebbe stata Ah si Questo si Signori Mi dispiace Per la Live Spezzata All'ultimo Per questa serata È tutto Ringrazio Edoardo Che mi ha pure raggiunto Preoccupato Ringrazio Stefania Anche per I drop Che avete fatto Ringrazio Wimbaw Ringrazio Sandro Che è passato Casbraticus E questo era Project Warlock Noi ci vediamo Se tutto va bene Domani sera Questa volta Alle 21 E 30 Forse Forse Alle 21 Grazie Per avere seguito E alla prossima Ciao Ciao